Oggi avviene un evento molto bello e importante a Suzzara. Attraverso anche un modo più giocoso, così, viene presentato una problematica invece molto importante. Tante persone che noi incontriamo quotidianamente rappresentano delle patologie o ci chiedono, vogliono anche informazioni su come e su qualche consiglio alimentare. Noi, diciamo, da questo punto di vista vogliamo essere presenti e vogliamo essere preparati e informati su tutte le caratteristiche di qualsiasi cliente che entra in farmacia e che ha fatto anche delle scelte particolari alimentari anche di un certo tipo. Quindi non escludiamo nessuno, ma siamo proprio rivolti verso le persone. Noi ci alimentiamo tutti i giorni, ogni giorno introduciamo principi attivi che ci servono per la nostra salute e può essere molto valido poter utilizzare dei prodotti che sono estremamente controllati, biologici e che sono molto ricchi di tutti i sali minerali, vitamine, proteine e tutti quei enzimi che servono per il benessere e la salute. Farma Vegana è un progetto per certi versi quasi rivoluzionario perché coinvolge tutta una serie di farmacisti, in questo momento sono circa 400 in tutta Italia, che sono diventati e stanno diventando esperti in nutrizione. Perché questo? Perché ci siamo resi conto che effettivamente le aspettative di vita sono aumentate, ma ci ammalliamo molto prima. Parliamo di aumento di diabete giovanile in modo clamoroso, di un bambino obeso su tre, questa è una situazione che non può andare avanti. In questo momento effettivamente ci stanno venendo in soccorso questi farmacisti che vengono proprio a rispondere a tutta una serie di questioni sull'alimentazione e sull'importanza della salute. Ormai è diventata un punto cruciale nel giorno d'oggi. Quindi a questo punto è chiaro che non è tanto una questione di diventare o meno vegan, ma è una questione di cominciare a imparare, a capire la differenza tra mangiare e nutrirsi. Oggi, che cosa prepariamo oggi Francesca? Beh allora oggi facciamo vedere una giornata tipo, partendo dalla colazione, quindi parleremo un po' dell'importanza di introdurre la frutta e la verdura in forma liquida, quando il risveglio, quindi con l'estratto, faremo vedere un frullato e altre cose, sempre tutto vegan crudista, quindi senza l'utilizzo di fornelli. La salute umana parte dal colon. Un colon pulito ci regala tanta salute. Il problema è che, come diceva Arnold Eret, uno dei pionieri dell'igienismo naturale, non esistono al giorno d'oggi coloni in salute, perché soprattutto negli ultimi anni mangiamo cibi troppo salati, troppo zuccherati, devitalizzati, che non contengono nulla dal punto di vista nutritivo. L'impegno dei farmacisti italiani è forte, molto forte, molto presente in tutti i settori. La scelta che è stata fatta oggi qui a Suzzara e che riguarda un campo appunto, che è quello alimentare diretto, ma con alimenti con determinate caratteristiche, come ha illustrato la dottoressa Giuseppina precedentemente, è proprio, si inserisce diciamo all'interno di questo filone. Quindi non solo imparare a curarsi, ma imparare a curarsi mangiando. imparare a curarsi mangiando alimenti, ricchi naturalmente in proteine, in elementi attivi e che possano avere un contributo notevole per il nostro stato di salute. Continueremo con un progetto che andrà avanti anche nelle scuole e che ci coinvolgerà direttamente a livello di istruzione e di formazione e di questo ne siamo particolarmente orgogliosi. Grazie.